Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, rieccoci nuovamente assieme ed operativi con il nostro blog a distanza di due mesi dove avevamo totalmente interrotto la nostra operatività, la nostra funzionalità e ovviamente le nostre pratiche solite conosciute ed oggi ritorniamo a distanza di due mesi funzionali e nuovamente in linea con il blog di informazione di Venezia Laguna Nostra. Sono stati risolti alcune problematiche all'inizio di questo mese, alcune situazioni che erano assolutamente da risolvere poiché il blog non poteva andare avanti in queste condizioni e oggi ritorniamo funzionali ed operativi. Questo è un piccolissimo filmato che pubblichiamo su YouTube per fare una promozione di questo nuovo inizio che è stato dato poi da alcune persone che vogliono veramente bene a questo strumento che abbiamo messo in piedi e che hanno fatto di tutto, ci hanno incitato, ci hanno scritto, ci hanno telefonato eccetera affinché il blog ritornasse nuovamente come dicono loro battagliero per la città di Venezia, per l'informazione veritiera e corretta. Allora amici, in questo filmato ovviamente una piccola promozione per tutti gli amici che seguono il blog di Venezia Laguna Nostra con i suoi filmati pubblicati anche su YouTube, così definiti Amici di Città di Venezia, che ovviamente poi sono amici del blog di Venezia Laguna Nostra, per indicarvi già alcune segnalazioni che ci sono pervenute in questi giorni di inizio attività e che già riguardano alcune criticità molto importanti della città di Venezia, sia delle sue isole, dei suoi sestieri e anche dei suoi quartieri. Prima di tutto amici, la segnalazione come potete osservare della signora Marisa, una residente in centro storico che ha voluto indicarci un deposito di fusti di birra, si avete capito proprio bene, di fusti di birra, all'interno di un piccolo campiello molto bello anche per chi lo conosce, è il campiello colombina adiacente praticamente all'area safa e a pochissimi passi dal rio di Canareggio, dove appunto si verificherebbero, secondo la signora Marisa che ha voluto darci questa testimonianza, anche molto viva, di questi fusti che vengono abbandonati, sono fusti di birra, materiale vario, che degradano ovviamente il campiello con alcune situazioni gravi che si abbattono sui bambini che dovrebbero giocare in questo campiello e che non hanno la possibilità di farlo perché appunto potrebbero anche farsi male con questi fusti di birra abbandonati e con altro materiale, ma addirittura la signora Marisa ci indica di aver comunicato la situazione a chi di dovere, crediamo ai vigili sostanzialmente, però la condizione è continua e non è stata risolta. Quindi si è rivolta al blog di Venezia Laguna Nostra e vedremo nei prossimi giorni con testimonianze come comportarci con questa segnalazione. Ovviamente l'immancabile Giovanni Salvagno e le sue grandissime poesie che pubblichiamo volentieri, questa si chiama Ingratitudine, successivamente la segnalazione della signora Cristina Romieri, veneziana del Lido, che ha voluto indicarci la sua progettazione che dovrebbe essere fatta per la pista ciclabile, che dovrebbe correre in strada vicinale Malamocco Alberoni, ma che presenterebbe alcune criticità che vi consigliamo di leggere e di approfondire, e il nostro amico Marco Costantini che ci chiede informazioni su Via Brunacci, sulla sosta degli autobus che regolarmente parcheggiano il loro mezzo enorme all'interno delle careggiate veicolari con grandissima difficoltà per quanto riguarda la sicurezza stradale e ovviamente anche gli abbandoni che abbiamo potuto notare delle persone che scendono da questi autobus e potete benissimo osservare nel filmato che è stato postato nel blog. Per finire, amici, col pontile di San Basilio che è stato chiuso il 23 gennaio senza preavviso e questa è una certificazione perché siamo andati sul luogo a chiedere informazioni agli operai che appunto lavoravano in quel momento lì all'imbarcadero per la sua sistemazione e che ha portato grandissimi disagi per gli anziani diretti al Giustinian e a Piazzale Roma. Trovate tutto appunto nello scritto che è stato postato nel blog. Bene, amici, queste sono le prime quattro segnalazioni che abbiamo pubblicato nel nostro blog che è ritornato attivo, per fortuna. Per il momento terminiamo qui, ci fermiamo qui, ovviamente non con il blog che da oggi continua e riprende tutta la sua normale attività, quindi collegatevi, quindi forniteci le vostre segnalazioni, potete trovare il modo di farlo all'interno del blog, ovviamente su un tag che è inserito, voglio scrivere sul blog di Venezia Laguna Nostra, mi raccomando scriveteci, fateci segnalazioni, ne abbiamo davvero bisogno, aiutateci perché ovviamente non possiamo fare tutto da soli. Terminiamo qui appunto con questo piccolo e mini filmato, Tell Aquilotto Laguna, il blog di Venezia Laguna Nostra, Venezia!